E' strana la line-up dei... di TR Sì, è molto leggera Sì Abbiamo Montana Yamato, poi due booster, un Mosca, un Demoin, un Minotaur, un Gearing con un Z52 Per quanto riguarda invece i snack, abbiamo Republic Yamato, quindi Republic Mosco mobile Doppio Demoin, Innenburg, doppio Mosca e due Z52 Gli Z52 su questa mappa sono molto molto utili In quanto c'è un'isola centrale su tutti e tre i cap E l'Hydro, molto molto lungo come durata di questo consumabile E' molto utile per uno spot e quindi per poi farsi prendere da un crossfire Per il povero malcapitato Esatto Sì, che poi sono anche 5,5 km di Hydro No, sono 6 Z52, sono 6 Anche perché viene spottata 6-1 Vedo Demoin, Worcester e Gearing per i TR andare su Charlie Mentre dall'altra parte su Charlie stanno andando un Demoin, un Mosca e un Innenburg L'Innenburg ci sta per tipo farmare il Cruiser che si piatta sempre sull'isola Almeno in posizioni più centrali, tipo il Mosca che si mette in D7 Però questa volta non c'è un Mosca Potrebbe non avere un bersaglio da spammare Mentre i tier invece ci stanno Sembra che vadano a fare una paperella Demoin Booster L'hai chiamato dietro a rimorchio Questo usare frequentemente la Montana Ma l'abbiamo visto anche nella season di Clan Battle Che picchia abbastanza forte Anche se non aver match ha picchi abbastanza Per carità, perché sono tanti colpi ed è molto precisa Però ti dico, in un 9v9 Dove ti serve fare un crossfire anche abbastanza elevato L'hai amato E giustifico anche il Republic perché è molto mobile Sono due navi ottime da giocare Poi va anche detto che la Republic è l'unica altra nave che può aver match alla 30 Quindi ha anche molto più sensi C'è da fare incontri anche con la sua dispersione trolling Però Intanto Bravo sta per essere conquistato dai tier Mentre Charlie e Alfa Stai avendo presi degli snack Il Mosca apre il radar L'altro Mosca apre il radar Quindi abbiamo Il Mosca di Casital Che apre il radar E il Mosca di Way3x Come detto ora Quei due Z Saranno lì Ho spottato lo Z52 dal radar Ancora Di Redam Il Z su Alfa Mentre qua hanno spottato il Demol di Luquini Stai avendo farmato allegramento E infatti I amato col pinvolo Un No, il cavolo Miss No, no L'ha presa L'ha preso in pieno Altro che Miss Perchè due Ha piato Altra salva in vola Fra Tipo cinque secondi Ah, dovrebbe essere in salvo Non credo Perchè riesce a lobbare Andiamo E in più c'è Indenburg e Des Moines Che stanno Picchiando forte Ha alzato l'aeroplanino L'ha chiamato degli snack Vuole provare a A cercare Lo slam dunk No Credo che voglia andare Su Aaron Perry Col Worcester Che è nel fumo Tanto Morbid California Main Ha preso una Slap Dal Des Moines Ne ha preso un'altra Ne ha preso un'altra ancora E mi sa che Questa qua è GG Per lui Invece no E a 20.000 HP Si è angolato adesso Ah, ok Adesso però il Davel è in una brutta posizione Perché È scoperto E c'è la Montana lì pronta A battezzarlo Però Dovrebbe avere l'isola Che gli salva il culo Credo che Debba intervenire in questo punto E fare i fan Con il Republic Parti nei colpi della Montana Verso il desmo Tanto è che Matanza è basso Colpi del Republic sul Mino Solo un colpo a segno Altro colpo Solo un colpo a segno E' fatto 8.000 in totale Con due colpi Adesso però Mi sa che andrà giù Per salvare Il De Moines Il Republic Esatto Dovrebbe riuscirsi Perché va giù il Manotel Tra un po' andrà giù Anche il Booster Perché Si avrà molto presto davanti Una Republic Con i cannoni pronti Adesso deve solo girare La torreta posteriore Il Montana sul Mosca Di Electrify Sì A vuoto È a vuoto E il Republic Se pusha un altro po' Si fa anche il Booster E lì rimane solo la Montana E quindi GG Per il settore di Huff Sì perché Deve andare per forza ormai Perché Sennò il Booster Si mangia lo Z Le torri Sono già girate Ecco la prima salva La prima salva È andata Di lusso La seconda Un po' meno Un po' meno Anche perché Tra qualche seconda Avrà di nuovo La prima torre pronta E spara a P Tra l'altro Quindi Non dovrebbe Non dovrebbe avere I FH Il Republic Ricarica 20 secondi 22 secondi Maggio il Booster Però Il Republic Non è perso Metà vita Eh ma L'unico che gli può far danno Ora è il Mosca Ti dico Se rimane lì Al Al sicuro Dal Montana E io Sinceramente Con Electric Fire Davel in supporto Mi farmerei bene 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 Il Mosca Ora Infatti Spara verso il Mosca Vanno corti per i colpi Tanto la La Montana sta scendendo A tutta velocità Per cercare di prendere Il Brozzo di Furry Fun Vediamo già che Canno Nell'altra parte Ci sono I due Des Moines Che si stanno scambiando Colpi su colpi Tanto vedo che Lo Z di Ciccolo Ha tirato di torno Verso la Yamato Dovrebbe prendere Qualcuno Forse Se rimane su quella linea A meno che Non ci siano Dei Dei gap Dei gap Mistici Che si creano Nel frattempo Però dovrebbe Dovrebbe prendersene due Sulla punta Quindi sarà Il secondo Sarà saturato Però Non sempre Lo Z però è stato spottato Quindi Gli ha fatto 12.000 Sono dolori per lui Adesso Tanto va giù Un furry fun È stato Gangato Dalla Dalla Montana Sì Una cattiva coordinazione Magari Non le hanno chiamato Il radar E quindi non sapeva Che la Montana Stava avanzando E ora la Montana Che farà Praticamente la Yamato Ha cercato il colpo Su Electric Fire Sul Mosca Di Electric Fire Deve stare attento A Electric Fire Perché Dove è ora Il lob È molto Molto Easy Sì Per soprattutto Per soprattutto I tier È che B sta venendo Kappato dal Mosca In una posizione Molto In fila Esatto Perché Ridame sta per Tira Per andare a fare Il rush La Montana Va giù A romperli Non lo butta giù Con tutti i siluri Non hanno abbastanza Alfa Ne deve prendere Almeno sei E ci riesce Ok Le ha piazzati Tutti e dieci A posto E quindi Alfa è completamente libero Ora De Moine E Mosca Vanno sul Mosca E si banchettano Allegramente E Montana Però Prima di morire Ha provato Il colpo Il colpo della vita Sul Mosca Di Wayfreaks Però Non è riuscito Dato che Gli ha tolto Solo 20.000 HP Anderà quasi Il dominio Ora Gli snack Hanno Il completo Controllo Della mappa E anche Degli HP Perché hanno buttato Giù il gearing Ci siamo persi Il worster E il Gearing Che andavano giù Gearing Forse l'ho preso Proprio Al pelo Però Gli Yamaha Lo siamo persi Adesso andrà giù Anche la Z52 Quindi I gear Non hanno più occhi Praticamente Se non i due rada Di Mosca e De Moine Che però sono Bloccati Sono completamente In crossfire Tutti quanti L'unica che non è in crossfire Penso che sia la Yamato Perché Eh ma c'hai La Yamato di fronte Quindi Esatto C'hai pure l'Hindenburg Faccio il De Moine Con te Ce l'ha 20 km Quindi Può spararli De Moine Sta sparando La Yamato Io andrei di AP Infatti Ha switchato ora Tra un po' Se continuerà così Il Mosca Dovrebbe avere La guanciotta Della Yamato A tiro Addirittura Anche De Laia Con lo Z52 Si è smoccato E sta sparando AP Sul fianco Esatto Della serie Adamure Tanto La Yamato Sta andando giù Quella dei Di Snake Che ha 5000 HP Però Amra YouTube Era full 20 secondi fa Non trovo la sita Con i colpi frontali Però viene Buttato giù Della Tamura E adesso EGG Va giù il Mosca Dei tira Intanto Quello che era rimasto Su B Ed è EGG Quindi Prima partita Lì NEC Bella partita Combattuta Ma Il sacrificio Del Rupablick Ha liberato Quasi completamente Un fianco Quindi Esatto L'esatto